Sarà una Pasqua diversa da quella che abbiamo vissuto lo scorso anno. La Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola si sta organizzando per vivere in modo diverso, ma comunque partecipato, le prossime celebrazioni pasquali, visto che la situazione coronavirus non accenna a diminuire. I Vescovi, si legge in una nota della CEI, nel rispetto dei protocolli firmati con il Ministero e confermati dai comitati, invitano ed esortano i fedeli alla partecipazione in presenza alle celebrazioni liturgiche, nel rispetto però dei decreti governativi, distanziamento, igienizzazione delle mani e limite massimo. I riti della Settimana Santa, in particolare il triduo pasquale, dovremo vivere in presenza e questo significherà che ogni parrocchia si sta organizzando per poterlo fare nel rispetto delle norme di sicurezza che questa emergenza covid ci chiede, quindi partecipazione in presenza. Anche la via Crucis cittadina per questo 2021 sarà rivista, non in versione digitale come lo scorso anno, ma organizzata sempre dai giovani e in presenza. Non sarà certamente possibile farla per le vie cittadine, ma la pastorale giovanile si sta organizzando perché ogni parrocchia possa viverla all'interno della propria chiesa. Sarà una forma unitaria perché saranno i giovani a presentarci le stazioni della via Crucis e i commenti e sarà il vescovo che diffonderà per tutte le parrocchie un suo messaggio per i giovani. Quindi la via Crucis quest'anno avrà questa caratteristica. Uno dei gesti più tradizionali di questo periodo è quella della visita dei parroci alle famiglie con la benedizione della casa che per ovvi motivi non si svolgerà. Nelle parrocchie ci si sta organizzando in questo modo. Ci sono delle celebrazioni in cui si ricorderà l'importanza del battesimo e la centralità del battesimo perché il battesimo è la nostra Pasqua, la nostra prima Pasqua e in ogni chiesa si benedice l'acqua che poi ogni fedele porterà a casa e secondo un rito che il vescovo stesso sta diffondendo insieme alle sue meditazioni potrà benedire la sua famiglia. Per tutti gli appuntamenti legati al momento quest'anno l'emittente televisiva Fano TV trasmetterà in diretta alcune delle celebrazioni organizzate dalla diocesi in programma fino a Pasqua. Chiediamo anche che coloro che vivono una situazione di malattia o di disagio si colleghino con le celebrazioni del vescovo e qui sarà Fano TV e l'ufficio comunicazione della nostra diocesi che si stanno organizzando per riprendere e per far partecipare tutti attraverso questi mezzi alle celebrazioni del giovedì santo alle 6, del venerdì santo alle 6, della veglia pasquale alle 6 e della domenica di Pasqua mattina alle 11.